La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, lascia intravedere un nuovo rialzo dei tassi che avrà nuove conseguenze sui mutui già cresciuti nell'ultimo anno. C'è ancora molto da fare, dice la Lagarde, per contrastare l'inflazione. E secondo la Fabi, uno dei sindacati, dei bancari, ammontano già a 6,8 miliardi le rate dei mutui non pagate dalle famiglie italiane in difficoltà. Riccardo Capaliere. L'inflazione cala ma resta alta, osserva la Presidente della BCE, Christine Lagarde, che ricorda l'obiettivo per l'UE è il 2%, c'è ancora lavoro da fare, dice, confermando in sostanza un nuovo rialzo dei tassi di interesse nella prossima seduta, il 27 luglio, che porterà a nuovi rialzi nei mutui già molto aumentati nei mesi scorsi. Per un mutuo ventennale da 120 mila euro i migliori tassi sono intorno al 3,5%, la rata media a 701 euro a gennaio dell'anno scorso sarebbe stata di 130 euro più bassa. Lo stesso vale per i mutui a tasso variabile. Qui i migliori sono tra il 4,3 e il 4,5% e l'aumento della rata è ancora maggiore, 200 euro in più al mese. Rialzi che portano il governo a chiedere alle banche di permettere a chi è in difficoltà di allungare i tempi del rimborso, con proroghe fino a 4 anni. In questo caso, con un tasso variabile intorno al 4% e i parametri del finanziamento visti prima, la rata scenderebbe da 759 a 682 euro al mese, uno strumento in più per le famiglie, che l'Associazione delle Banche Italiane si è detta disposta ad accettare. Ma, ricorda il presidente Patuelli, chi affronta l'aumento delle rate dovrebbe porre il problema alla banca, per ridiscutere, rimodulare il mutuo o magari chiedere una surroga trasferendola a un'altra banca. Una pratica che però gli istituti di credito approvano sempre di meno. Le richieste di surroga sono in aumento, ma quelle concesse dalle banche sono in calo.